Un caso di positività al Covid-19 posticipa al 7 ottobre il tanto atteso esordio del Molfette in Serie D, ma intanto i biancorossi si scatenano in sede di mercato. Alla corte di Bartoli approdano i difensori forte classe 98 e Mele classe 2002, provenienti rispettivamente da Andrea e Lecce, società dalle quali giungono anche l'esterno offensivo varriale classe 99 e il centrocampista romano classe 2002. A completare il sestetto di ingaggi Dubaz, esterno Mancino classe 2000 ex Grumentum, e il mediano Merolla classe 2002 di proprietà del Monopoli. Salutano la corte di Bartoli invece i difensori di Nieli e Pipoli e l'attaccante De Angelis. Ufficialità anche ad Andrea e Grevina, si lega ai biancazzurri l'esterno classe 99 Carullo, gialle dipendenze di Panarelli a Taranto, mentre resta in giallo-blu il difensore Anchelli classe 99 Dentamaro. Doppio colpo in difesa per il Cerignola, i classe 98 a Campora, ex Paganese e Pertosa di proprietà del Foggia, sono due nuovi atleti giallo-blu. Ancora sugli scudi il Castellaneta, a Broda alla corte di danza Vittorio Prete, terzino classe 89 ex Taranto e Grottaglie, mentre il Città di Mola si assicura le prestazioni del funambolo d'attacco Sguera, reduce dall'esperienza alla Slai. Il Barletta, infine, piazza un colpo d'esperienza tra i pali. Si lega ai colori biancorossi Vitucci, in passato baluardo dei pali del Bitonto.